L'avvento di Internet ha trasformato in modo definitivo le ricerche dei pazienti. Il 90% delle persone cercano informazioni mediche su Internet e la maggioranza sceglie il medico in base alla sua reputazione online. Ma come fa un medico ad avere una buona presenza su Internet e una buona reputazione online? Top Doctors è il miglior mezzo per ottenere che la reputazione online sia solida quanto quella che ha già nella vita reale e per fare in modo che i pazienti lo sappiano. Noi di Top Doctors abbiamo fra i nostri medici solo professionisti il cui prestigio è noto, ragion per cui appartenere al nostro quadro medico è di per sé già un riconoscimento di eccellenza. In più, i nostri esperti in comunicazione curano il suo profilo per dare un'immagine reale e professionale, per generare così un'eccellente prima impressione. Oltre a ciò, ci occupiamo di posizionare il suo profilo di Top Doctors su Google in modo che i pazienti in circa di un esperto nella sua città la trovino facilmente. Infine, le mettiamo a disposizione tutte le tecnologie e l'appoggio necessario per riuscire a gestire gli appuntamenti dei pazienti in maniera efficiente, dal sistema di prenotazione online sino all'informazione elettronica sulle chiamate senza risposta, arrivando anche al servizio di seconda opinione e a quello di telemedicina. Quindi, se vuole avere un'ottima reputazione online e trasmetterla ai suoi nuovi pazienti, abbia fiducia nell'esperienza di Top Doctors. Da Top Doctors siamo felici di prenderci cura della sua reputazione.